buon mercoledì a tutti ho dovuto prendere un microfono sostitutivo perché quello della videocam è sotto carica e quindi ho dovuto prendere attrezzarmi un attimo con un po di fantasia allora quanto puntata di oggi la settimana scorsa abbiamo parlato del del prodotto di nicchia come vengano vengano sfruttate queste queste componenti chiamiamole così del mercato queste queste armi se questi mezzi per accalappiare la il pubblico la clientela questa settimana parleremo dei mezzi potenziali che ha il mercato per catturare nuovi clienti oggi si parla spesso di influencer che cosa sono che cosa sono chi sono gli influencer e vediamo se realmente le persone si lasciano trascinare o meno da queste correnti no allora partiamo dal presupposto che il televisione è un mezzo di comunicazione che oramai è superato superato perché molte persone non credono nella pubblicità che guardano in televisione a questa la televisione lo sa benissimo è stata una televisione che negli anni 60 70 aveva un peso sociale era faceva parte della famiglia il televisore oggigiorno invece la televisione è una scelta piuttosto che un'altra quindi si preferisce magari credere alle notizie che circolano sui social network piuttosto che credere a ciò che viene detto in tv ma questo perché perché sembrerebbe essere più credibile la voce del popolo che si sparge all'interno della social no però questo quanto è vero questo non lo possiamo sapere perché comunque già la televisione fanno fanno vedere dei servizi tipo il telegiornale o cose di questo tipo dove gli avvenimenti sono palesemente pilotati che non parliamo della guerra in in ucraina o altre guerre in atto dove il vero i fondamentali poi veri di una guerra noi non li conosciamo comunque ci vengono celati o o li sappiamo in parte che dico che cosa succede che sono le correnti di pensiero che circolano all'interno dei social che vengono prese invece in considerazione dal dalle persone al popolo più che altro dalla popolazione popolo è un po riduttivo meglio la popolazione e che grado a che grado hanno le persone di analisi di poter capire se queste informazioni sono vere o sbagliate io direi che sono pari allo zero perché semplicemente perché abbiamo tanti influencer sul sui social che hanno milioni di follower quindi questo vuol dire solamente che comunque le persone tendono a seguire una linea di pensiero che viene condotta da una massa o comunque da una singola persona e tende a fidarsi molto di più di un influencer che non della televisione quindi facciamo attenzione perché bisogna avere capacità di filtrare anche le informazioni che ci arrivano via video quello anche che quello che state guardando anche ora io non mi reputo un influencer perché comunque ho fatto il tester di prodotti sono un divulgatore non un influencer quindi sono un divulgatore di informazione seppur nel mio piccolo ma di informazione personale quindi non è che abbia capacità di riportare delle notizie che provengono da fonti certe sono rielaborate da me e quindi ve le riporto però da qui a dire che il di lernia dica al cento per cento la verità facciamo attenzione perché io dico delle cose una mia corrente di pensiero quindi questo dovrebbe far parte di ognuno di noi cioè non possiamo guardare un video e dire a ai hai perfettamente ragione sono con sono d'accordo con te e la verità ce l'ha in tasca eccetera eccetera quindi dobbiamo fare questo esercizio di imparare a vedere con occhio molto critico quello che proviene da qualsiasi fonte media da qualsiasi qualsiasi provenienza che sia il telegiornale che sia il social media che sia il giornale di carta che siano i fumetti che sia qualsiasi cosa dobbiamo imparare a guardare tutto ma avere spirito critico nel filtrare le notizie notizie prodotti ragazzi noi compriamo abbiamo comprato decine decine di prodotti dove l'inci era uguale era lo stesso voi guardate le creme bene o male hanno tutti lo stesso inci non ce n'è c'è qualche qualcuno che mette qualcosa in più qualcuno che mette qualcosa in meno prendete un sapone non c'è l'idrossido di sodio scusate una crema non c'è l'idrossido di protassio si è in tutti quindi voglio dire stiamo parlando del nulla stiamo veramente parlando del nulla poi togliamoci la l'abitudine di scegliere sempre il meglio perché i produttori questa cosa la sanno e quindi aumentano i prezzi perché sanno che le persone spendendo di più hanno il meglio ma questo non è assolutamente vero non è vera questa call non è vera oggi più che mai non è vera poteva essere vera magari negli anni 80 70 allora sì ma oggigiorno il prezzo alto è uno strumento di mercato è un'arma che ha il mercato per accalappiarsi i clienti quindi è vero che vogliono comunque vendervi un prodotto valido ma lo sarà sicuramente ma non varrà il prezzo a cui viene venduto varrà di più di un prodotto che costa pochissimo ma non all'estremo come vogliono farci credere quindi quindi filtrate tutto filtrate le informazioni filtrate anche questo video perché non è detto che siate per forza d'accordo con me e nessuno ha la verità in tasca io non sono mai venuto in video dicendo io sono sono il guru seduto sulla montagna e vi dico la verità come sta ma assolutamente no vi do un mio parere però vi posso dare un suggerimento perché comunque determinate cose le ho viste quindi le ho potute verificare e quindi ve le dico poi chiaramente se dovete essere liberi di filtrare la notizia e capire ciò che è giusto per voi oppure non lo è perché qualcuno mi potrebbe dire sì però di lernia io guadagno 20.000 euro al mese a me cosa me ne frega di comprarmi un profumo che costa 400 euro me lo compro e non mi interessa infatti quello che questa info ci sta per coloro che non guadagnano 20.000 euro al mese per coloro che devono dividere lo stipendio che prendono per i 30 giorni del mese e dedicare una quota giornaliera per fare gli acquisti per mangiare per pagare le bollette per fare questo per fare quell'altro quindi sono indicazioni di massima per non farvi sciupare il denaro che comunque con molta fatica viene sudato e lavorato io spero che anche questo video vi possa essere utile nella scelta nel filtrare le informazioni degli influencer e dei social perché è un'arma molto potente il social che fa promozione di informazioni per accalappiarsi cioè per accaparrarsi fette di di popolazione per rendersi è una sorta di lavaggio del cervello facciamo sempre attenzione io vi auguro buona serata buon mercoledì sera e buona ripresa poi della settimana da domani mattina un abbraccio da Mauro dal canale della rasatura del neofita e a sabato prossimo grazie a tutti